Turiste canadesi disperse ritrovate nella notte. Sono state ritrovate alle 3 della scorsa notte le due giovani turiste canadesi che dirette a San Fruttoso di Camogli ieri sera si sono smarrite mentre percorrevano i sentieri sul monte di Portofino. In giro con un coltello da cucino lungo 25 centimetri fermato a cavi di lavagna e denunciato per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 24enne del Bangladesh. Domani torna l'Anderson a seste rilevante 120 del cartellone a cominciare dalla sfilata dei bambini che domani mattina aprirà la manifestazione. Buonasera dal TG Tiguglio. Turiste canadesi disperse sul monte di Portofino sono state ritrovate nella scorsa notte alle 3 stanno fortunatamente bene. Sono state ritrovate alle 3 della notte scorsa le due giovani turiste canadesi che dirette a San Fruttoso di Camogli ieri sera si sono smarrite mentre percorrevano i sentieri sul monte di Portofino. A ritrovare dopo 5 ore di ricerche per terra e per mare con l'ausilio di una motobarca sono stati i vigili del fuoco di distaccamento di Rapallo e gli uomini del soccorso alpino. Le due ragazze poi provate spaventate stanno bene dopo essere state visitate dai medici del 118 sono potute tornare nella loro camera di albergo a Camogli. L'allarme che ha fatto partire le ricerche era scattato alle 22 di ieri quando una delle due ragazze di origini italiane ha chiesto aiuto con il telefonino al 112. La chiamata è stata dirottata ai pompieri di Rapallo che hanno subito avviato le ricerche rese però difficili dal fatto che il cellulare delle ragazze non localizzava il punto in cui si trovavano perché il segnale era debole. Sono state rintracciate dopo ore di cammino al buio sopra la località Pietre Strette. Cambiamo argomento se questo per equivalente nei confronti di treggi tra consiglieri ed ex consiglieri regionali per le spese pazze sostenute nel periodo compreso tra 2008 e 2010 con i soldi erogati dalla regione. L'ordine è partito dal pubblico ministero Massimo Terile che ha incaricato la guardia di finanza di procedere con i sequestri di beni immobili e immobili. Il provvedimento è scattato in vista dell'udienza preliminare fissata per sabato davanti al GUP Nadia Magrini che dovrà decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere i 13 imputati. I reati contestati a vario titolo sono peculato e falso. I politici per cui è stato chiesto del sequestro appartenevano a tutti gli schieramenti politici sono Sandro Biasotti, Nicola Abundo, Angelo Barbero, Tireno Bianchi, Fabio Broglia, Francesco Bruzzone, attuale presidente del Consiglio regionale, Giovanni Machiavello, Matteo Marcenaro, Rosario Monteleone, Carmen Patrizia Muratore, Luigi Patrone, Giovanni Battista, Pittaluga e Franco Rocca. E adesso torniamo alla cronaca. Pullman a fuoco in galleria autostrada chiusa tra Lavagna e Sestri Levante. Ieri e sempre ieri grave incidente, sempre a Sestri in via Tino Paggi, un cinquantenne finito in codice rosso al San Martino. Ieri pomeriggio un Pullman ha preso fuoco in autostrada nella galleria Santa Giulia tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Livorno. A bordo c'era solo l'autista che è riuscita ad intervenire con un estintore prima che sul posto arrivassero i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e il 118. Inevitabili disagi alla viabilità sulla 12, il tratto tra Lavagna e Sestri è stato chiuso per consentire le operazioni di spegnimento e si sono registrati anche quattro chilometri di coda. Sempre ieri pomeriggio e sempre a Sestri Levante un grave incidente stradale si è verificato in via Tino Paggi. Un uomo di circa cinquant'anni in sella al proprio scooter è caduto, forse perché un veicolo gli ha tagliato la strada. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Politraumatizzato in codice rosso, l'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Era già accaduto nel ponte del 2 giugno un episodio analogo quando era stato preso di mira il nido di via 20 Settembre a Sestri. Questa volta, o meglio la scorsa notte sempre a Sestri, i ladri sono entrati nelle scuole di via Lombardia. Secondo i carabinieri erano due o tre persone che per entrare nell'edificio sono passate da una porta antipanico della palestra. Una volta all'interno hanno rovistato tra i cassetti, rubato qualche spicciolo, messo a soquadro i locali ma senza provocare danni ingenti. Hanno però mangiato dei pasticcini rimasti da qualche festa dei bambini. I carabinieri stanno controllando le immagini di una telecamera di videosorveglianza della zona e ci sarà un'intensificazione dei controlli per le prossime notti. A Santa Margherita Ligri invece nel corso di uno specifico servizio per il controllo del territorio i carabinieri della compagnia di Santa hanno denunciato sette persone tutte gravate da pregiudizi di polizia di cui due senegalesi di 22 e 35 anni e quattro marocchini di età compresa tra i 23 e 42 anni per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il settimo denunciato invece è un uomo di nazionalità rumena di 42 anni inotemperante al decreto di espulsione trovato in possesso di un computer portatile risultato rubato. Adesso ancora cronaca due episodi uno a Portofino e l'altro a Lavagna. Il primo fa volare un drone in piazzetta a Portofino ed è stato denunciato. Il secondo invece è un po' più preoccupante. A Cavi di Lavagna in località Renelli infatti un 24enne del Bangladesh era spasso con un coltello da cucina lungo 25 centimetri. Passerà qualche guaio il pilota di un drone che stava facendo sorvolare il suo mezzo sulla famosa piazzetta di Portofino proprio mentre si stava svolgendo una manifestazione. I carabinieri lo hanno infatti scoperto e denunciato per un'osservanza dei provvedimenti dell'autorità e delle norme sul pilotaggio remoto di droni. Il 42enne residente a Portofino e gravato da pregiudizi di pulizia stava facendo volare il mezzo senza contatto visivo con l'aeromodello. Da Portofino a Lavagna girava infatti tra la strada e la spiaggia con un grosso coltello. Per questo motivo un equipaggio dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Sesti Rilevante nel corso di un controllo ha denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 24enne del Bangladesh. Il giovane a cavi arenelle è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 25 centimetri senza un giustificato motivo poi sequestrato. Andiamo a Cogono perché a seguito dell'aumento del 30% della tassa sui rifiuti il meetup 5 stelle di Cogono con terza il sindaco Enrico a Sommariva. Da anni chiedevamo l'introduzione della raccolta differenziata con tariffa puntuale cioè chi produce meno rifiuti è differenziata meglio spende meno affermato a nome del meetup di Cogono Riccardo De Giorgi. Il sindaco non ci ha mai dato retta e solo 11 mesi fa con enorme ritardo ha dato avvio ad una raccolta differenziata organizzata male e che non produce risparmio per i cittadini anzi è causa di fortissimi aumenti. Il meetup 5 stelle di Cogono si dice quindi a disposizione del primo cittadino di Cogono per illustrare come si organizza una raccolta differenziata puntuale e andiamo a Sestri Levante dove da domani per quattro giorni c'è l'Anderson. Conto alla rovescia per l'apertura dell'Anderson Festival numero 20 e del cinquantesimo premio letterario a Sestri Levante. La città si trasforma e si prepara a vivere quattro giorni fantastici a partire da domani giovedì 8 giugno. Come in ogni favola che si rispetti si comincia dal classico c'era una volta. In questo caso la narrazione parte da molto lontano, mezzo secolo, iniziando dall'idea visionaria di Davide Bixio che nel 1967 decise di gettare il seme di un concorso dedicato alle fiave legato al grande narratore danese al suo rapporto con Sestri. Il premio Andersen, cresciuto di anno in anno, ha visto la partecipazione di molti dei più grandi autori italiani, da Calvino a Luzzati, Moravia, Soldati, Zavoli di Filippo, per citarne solo alcuni. Il premio nel 1997 è stato affiancato all'Anderson Festival diretto da Leonardo Piscedda. Tema di quest'anno è la libertà. La libertà delle fiave, dei bambini e degli artisti che rendono prepotentemente attuali le parole di Giorgio Gaver che nel 1973 cantava la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Con le oltre 800 favoli in concorso e i 120 che rendono unica questa KMS la partecipazione si esprime ai massimi livelli. Un forfè dell'ultimo minuto. Domenica sera non ci sarà Jack Savoretti che avrebbe dovuto portare in baglia il suo concerto acustico L'altro lato dell'amore. Problemi di comunicazione con il management hanno affermato gli organizzatori. Al posto di Savoretti arriverà Mario Venuti per un concerto, anche in questo caso acustico, piano e voce, intitolato Motore di Vita. Confermati invece tutti gli altri 120 del cartellone, a cominciare dalla sfilata dei bambini che domani mattina aprirà la manifestazione. E sabato mattina ci sarà la premiazione del concorso letterario. Le favole arrivate quest'anno sono, come detto, 800. E' ultimato il restauro dell'organo settecentesco della chiesa di San Nicolà Coreglia Ligore reso possibile dai cofinanziamenti di Curia Comune e Compagnia di San Paolo. Si recupera così lo strumento di notevole fattura sotto gli aspetti tecnici ma anche per le decorazioni della struttura che era inoperoso da qualche tempo anche a causa di un restauro sbagliato nel corso del Novecento. Domani sera, appuntamento alle 21, per la presentazione del restauro avvenuto, benedizione da parte del Vescovo della diocese di Chiavari Tanasini, concerto inaugurale dei maestri Cam Godal Castello e Guido Iotti. Poi da venerdì a lunedì a Coreglia si farà festa con gli stand gastronomici e le serate danzanti in occasione della festa di Sant'Antonio. L'ingegner Gianni Rebaudengo è sicuramente l'ideatore di questa iniziativa ma anche colui che l'ha coordinata e seguita. Direi un grosso successo per una quarta edizione. Ma indubbiamente devo dire che sono decisamente contento di vedere la sala che è quasi piena di ragazzi e abbiamo avuto quattro edizioni. La prima edizione è stata realizzata nel momento nel quale ero presidente del Rotary con l'aiuto devo dire di tutto il mio club. C'è stato un entusiasmo incredibile nel seguire questa iniziativa. Iniziativa che a quanto pare ha avuto poi anche dei successori perché attualmente mi rendo conto che ci sono tanti concorsi nei quali ciò che viene richiesto è di preparare un video. Il video effettivamente è l'elemento più immediato ormai di comunicazione. Un'altra cosa che vorrei mettere in evidenza è il contenuto di questi video. I video che vengono realizzati sono dei video che denotano un'attenzione ai problemi sociali, ai problemi personali, ai problemi del mondo che ci circonda che normalmente noi adulti non consideriamo tipici dei ragazzi. Si dice che i ragazzi sono leggeri, sono superficiali. Non è vero perché i video hanno una profondità veramente incredibile. Come avrà potuto notare anche lei che li ha esaminati, quale è il nostro giudice. Un giudice appunto di eccezione. Andiamo qui. Andiamo qua. Sono Lorenzo Vignolo. Lorenzo Vignolo, volevo che lo dicesse l'ingegnere Baudengo. Lorenzo Vignolo davvero impegnato in questo settore e quindi una lettura da esperto, quella dei filmati. Come sono? Sono già di buon livello. Poi doppio settore perché oltre ad essere un regista, ho debuttato con i cortometraggi, sono anche coordinatore all'OIED di Roma, quindi tengo un corso terrennale. Praticamente i ragazzi appena escono dal liceo si iscrivono a un corso di filmmaking, quindi sono abituato in realtà a stare con quei ragazzi, anche se di uno o due anni più grandi di loro. Poi Gianni mi ha coinvolto già dalla prima edizione, però è la prima volta che riesco a partecipare alla premiazione e sono molto contenta. Non le chiedo per chi ha votato, nell'ordine perché non sarebbe carino, però le dico qual è stato il tipo di valutazione in primis che le ha fatto scegliere? Di solito la prima cosa è tecnica legata al significato e poi anche lo sguardo in generale, nel senso se un cortometraggio magari evita facili bonismi o cerca comunque una diversa forma di comunicazione non facile, quella è una cosa che mi colpisce. C'è una costante che accompagna tutti questi video da un punto di vista del contenuto secondo lei? C'è un filo conduttore dei giovani? Beh io ho visto comunque che c'è grande disagio tra i ragazzi, questa cosa qua esce fuori e a volte chi ha la capacità di esprimerlo in maniera non pesante, vedo sempre di buon occhio, nel senso che riesce in qualche modo ad aggrapparsi a una forma adatta come quella audiovisiva per uscire un po' da una condizione esistenziale che mi sembra abbastanza forte qua in zona. La solitudine c'è? Beh sì, la solitudine c'è, però se c'è una cosa veramente buona è girare video perché non si possono fare da soli, bisogna mettersi, programmare, scrivere, accordarsi, produrre, organizzarsi e alla fine si ha un'esperienza, si cresce e poi c'è un'opera che rimane e quindi un ricordo comunque che avranno per sempre loro. Per chiudere, ingegnere Baudengo, il successo di questa iniziativa che è di tutta evidenza però accompagna un pensiero profondo, si aiutano i ragazzi a dire delle cose. Aiutano i ragazzi a dire delle cose e infatti il nostro regolamento prevede che ci sia un team, allacciandomi a quello che diceva Vignolo, di ragazzi che lavorino insieme, quindi li abitua a lavorare insieme e a risolvere i problemi che si pongono. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani e la programmazione di Entella TV. Ricordo che l'informazione locale della nostra emittente tornerà domani alle 12.45, alle 14.15 con il TGT Guglio Gente e quindi con Marisa Spina, mentre in serata andrà in onda il TGT Guglio Tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni per domani, giovedì 8 giugno. L'alta pressione continua a proteggerci e garantisce un'altra bella giornata di sole. Segnaliamo solo deboli addensamenti sui versanti padani dalla tarda mattinata, che potranno localmente sconfinare sulle coste. Venti da nord moderati o localmente forti al mattino, in calo fino a deboli e a tratti di direzione variabile nel pomeriggio. Mare mosso al mattino, in calo fino a poco mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste sulla costa tra 15 e 25 gradi, nell'entrotera tra 9 e 24 gradi. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.